E' da dove mi arrivate così? Nel bel mezzo dell'anno scolastico? Da Ostia. È che papà ha perso il lavoro e ci hanno tolto casa. Beh, dove abitate? Su al passo, vicino allo Splendor. Nostro zio ci ha prestato una baita. Chiede che state buone, ecco. Tempo di organizzarci. Non hai detto che ci stavamo per poco? Guarda che Alfredo ci si abitua. Comunque secondo me ti troverai bene qua. Zio, che facciamo con Fabrizio? È meglio se viene a stare da te. Non è facile. Ci sono delle cose da sistemare. Ma quale cose, zio? Io devo tornare a Ostia. Il ritiro per i campionati italiani. Tu non mi lasci il tuo compagno, vero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le cavi della piscina è già la seconda volta che ti becco che sia l'ultima Con tuo padre Fabrizio come fai? Non tocca a me occuparmi di loro, no? Ma pensi che possiamo andare avanti così? Lo capisci che è colpa tua se siamo finiti qua su? No, non ti lascio stare e non ti rimango qui a farti la baglia Io me la devo andare avanti